Beh ragazzi, stamattina ci siamo tutti eh! Tutti! Manca Stefano! Ah no, già manca Stefano! C'è chiaro! Davvero Stefano? Le donne, le donne! Il nostro Riccardo, dove sei? Dove sei Riccardo? Riccardo, dove sei? È suo cugino! Dov'è il mio cugino? Tu hai vaso stamattina, hai vaso! Mauro, dov'è che si va stamattina? Alle cascate di Nardis! Quindi ci puoi guida tu stamattina! Credici! Direzione Napoli! Le cascate di Nardis! Bene ragazzi, siamo pronti! Le cascate di Nardis! Si va su il Trentino! Eh vabbè! Allora ragazzi, il percorso di oggi sarà partendo da Verona, poi si fa Sant'Ambrogio, Domegliara, Volarnie, poi faremo la Val d'Adige, prendiamo Perperi, poi facciamo Belluno Veronese, Avio, Ghisola, prendiamo per Mori, direzione Lago di Garda, Loppio, poi prendiamo Passo San Giovanni, Arco, Drò, Sarchè, Ponte Arche, Pione di Trento, Barrandena, Pinzolo e poi siamo arrivati lì alle cascate. Nardis, le cascate Nardis, veramente belle! Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, grazie! Ci vediamo strada facendo, ciao belli! Ciao! 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 qui a fianco a noi abbiamo maro con lisa il nostro corso gratuito dietro di noi abbiamo massimo con lidia che ci sta sorpassando e subito ci passa francesco con betti e questo è il nostro gruppo davanti a noi abbiamo massimo con graziella a 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